Musica Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Mindtech Rieccoci questa settimana di nuovo con il nuovo episodio Devo fare davvero davvero veloce Perché Ehm Praticamente oggi è sabato fra poco devo uscire Domani e domenica e non sono tutto il giorno a casa Quindi pur di non lasciarvi a bocca asciutta Ehm Con Mindtech Ehm Appunto preferisco registrare oggi che è sabato E dedicare 10 minuti 15 minuti 20 minuti del mio tempo Ehm Per appunto fare l'episodio di Minecraft Allora dove sono i miei semi? Ok Perché mi avete consigliato nei commenti di raccogliere il grano E ce l'avevate Azzo questo si è Si è disfatto Mannaccia a morte Ok la cima così Ok non devo saltare sui blocchi chiedo scusa Posso camminarci Ma non devo saltarci sopra Perché se no Si dispano Ok Ehm Intanto non attivo più la shadere Perché a molti sta sul cazzo A me piace onestamente Certo in miniera sta sulle palle a tutti Però Facciamo finta niente Allora mi avete detto anche di togliere sta cazzo di botola E la togliamo Ok ragazzi Io ascolto tutto Io ascolto funzionalmente tutto Eh poi Mi avete anche detto che Non so sta cosa quanto può essere Fattibile ma Di mettere Ma che cazzo Non è vero Ok Allora dobbiamo fare praticamente Tante scalapioli Per arrivare al livello 12 Per trovare appunto Dei materiali Quindi Devo andare un attimino a disboscare Gli alberi qui Al lato Porca troia Della casa Per appunto Fare Qualcosa di Nocivo Ok Cosa sto dicendo? Sto delirando? Non voglio delirare Però lo sto facendo Datemi il fottuto legno Ok Mi servirò tante scale a pioli Appunto per farmi la Minirozza E porca puttana Non ci credo Ah ok E meno male Che non c'ho voglia di andare Di nuovo in casa Intanto lì Guardate qui quanto carbene c'è Che io non me lo lascio sfuggire Perché il carbene Ragazzi cazzo è fondamentale No ci anderemo a corto di carbene Quindi adesso Ho imparato Che quando Trovo un pezzo di carbene Me lo prendo subito Perché il carbene È morto È morto Funerale al carbene Perché il carbone È molto molto Importante Allora intanto Prendiamo questa legna Così ci andiamo a fare Le scale a pioli E ci fiondiamo subito In miniera Per andare A livello 12 E appunto Vedremo di trovare Qualche materiali Dato che c'è questa leggenda Poi magari anche verità Che si trovano appunto Tanti e tanti materiali Quindi Vediamo di portarci al caso Un bel bottino Ovviamente senza morire Da qualche mob Feroce Che ci vuole uccidere Ok quanto pezzi abbiamo Un bel po' Dai Gli possiamo andare Tante Gli possiamo andare a fare Tante scrittate Sta venendo notte Poco importa Perché Adesso Tanto ci andiamo a ficcare in miniera Quindi notte o non notte A noi Ce ne sbatte il cazzo Quindi entriamo Dentro casa Andiamo a fare Le nostre scalette A pi Ok no Dai buttati dentro Ok Buttati dentro Ok Bla 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 Dove fare le scale a pioli Quindi Uno E E che cazzo E due Cosa stai facendo Uh Oh così Ok Andiamo a fare tanti sticchietti Che servono Quindi facciamo così Ho fatto Uh Ha voglia di sticchietti Porco due Che facciamo così Ok Facciamo un bel po' di scale Perché ci servono Ragazzi Là sotto Se vogliamo Risalire Senza ammazzarci Le scale là sotto Sono fondamentali Quindi Ok Abbiamo 33 scale Io le continuerei a fare qualche Un altro poco Ok 39 Ne continuerei a fare Un altro pochettino Tipo Maronna Quante Ok Perché Se no Io reschio Reschio Rischio di restare là sotto E ci lascio le penne Ok Direi che possiamo Andarcene Anzi No Vabbè Ok Il cibo ce l'ho Posso fare qualche pene Eh Qualche pane Facciamolo Uno Due Tre Quattro E basta Anzi Io non te lo posso fare Mi resta un grano Molto bene Ok 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 Siamo Siamo fullati a schifo Allora Il cibo Drop dei mob Materiali vegetali Dove cazzo sono Eccoli qua Andiamo a mettere questo Benissimo E tutto il resto me lo porto Perché può servire Può servire Ok Allora Andiamo Ah Aspetta Piccone ce l'ho Ok Ho tutto Minchia Ce ne possiamo andare a schifo Raga Ce ne possiamo andare a schifo Ok Questa era la prima parte della miniera E poi Dovevo andare qua Ah le torce Ok Le posso fare Buono Ok Ok Adesso devo vedere un attimino una cosa Impostazioni grafico Un visita brillante Ok Allora siamo a livello Dove cazzo si vedeva Y61 Porca troia Siamo a livello 61 Uno schifo Veramente Quindi dobbiamo bucare come non mai E vedremo di non Ficcarci Intanto sento dei rumori mobosi assurdi Sicuramente io qua Ci lascio le fottutissime penne Anche se Non è un problema A presto Grazie a tutti Tanto si inizia a sentire veramente come potete ascoltare rumori assurdi Siamo a livello 18 ragazzi Livello 18 stiamo arrivando stiamo arrivando stiamo arrivando stiamo arrivando Si sentono tutti Urca troia Allora E ragazzi adesso la cosa si fa Al quanto complicated Redstone Si inizia a trovare le prime Le prime risorse Le prime risorse ragazzi Le prime risorse Ok adesso siccome non voglio morire Ok sto morendo Non ci credo 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 Ok aspetta 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 Sì Fottuti teschi di merda Come cazzo Dai 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 Ok Uno è andato via Fuori uno This is fucking good Intanto guardate tipo l'esperienza che si avvicina Verso di me Facciamo così Ok Cioè questo è un momento veramente Veramente brutto ragazzi Intanto sta cosa Potrei prenderla Ma Può anche aspettare un attimino Dai vieni Shottato Buono Dai Dai Vieni 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 Ok Sprendiamo i tro I tro Aspetta Allora Ai 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 Mangiamo mangiamo Ok Vaffanculo Quanti Secondo me c'è uno spawner ragazzi Ce ne sono un fottio Forca puttana Oddio Questo è incantato del porco 2 Minchia male che mi sta facendo Figli buttana Ma va muo Oddio quanti ce ne sono No mi devo chiudere Mi devo chiudere Ma che cazzo è Quanti ce ne sono porco 2 Dio mio C'è uno spawner C'è uno spawner Cioè io prima avevo detto Magari trovo uno spawner Ho trovato un cazzo di spawner Ho trovato un cazzo di spawner Non ci credo cazzo Non ci credo Raga C'è un cazzo di spawner Assurdo Sto per aver Guardatevi Sono pieno di frecce Che cazzo è Divertente Guardatevi Togliamo sta cazzo di te Di scritta Allora Aspè Aspè perché raga Qua è bruttissima La sto vedendo Davvero brutta Davvero brutta Devo ragionare un attimino Sul da farsi Perché Perché davvero È assurdo È assurdo Allora Facciamo così Vaffanculo Ok 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 intanto Porco 2 Porco 2 Porco 2 Porco 2 Vai Ok così non possono passare Good Good Dai venite Venite Dai Dai vieni vieni Screttino Sì Sì Ok Ok Allora Devo fare una cosa Sto cazzo Devo fare Dai Porco 2 Darka puttana Sì Col cazzo che mi prendi L'urido frocio di merda Dio carissimo ragazzi Ok mi sono rotta la minchia Ok Sto non basta E battene affare in culo Pezzo di merda Pezzo di merda Morite tutti Sì Ok Ok Adesso mi aprirò un piccolo varco Qui Porca troia Ok Ok Speriamo di non morire Intanto che facciamo le costruzioni qua Ok Adesso mi aprirò un piccolo varco Ops Succhiamo il cazzo Succhiate Guardate quanti cazzo ce ne sono Pezzi di merda Ok Mettiamo le torce Good Non si dovevano più spawnare In teoria Tu sei cattivissimo Ok Non si spawnano più Ok Oh Lo distruggiamo Fotte sega Lo distruggo Ma come si distruggiava Col piccone Ok Ah Quanta esperienza mi ha dato Assurdo Micchia stiamo aprendo la cesta Raga Oh Dischi musicali Redstone Secchio Un cazzo Secchio Disco musicali C'è Lingotto di ferro e grano C'è Una merda però Dai va bene Però cazzo Abbiamo trovato uno spawn Dele porco Due Veramente assurdo Io sto Sto per Per venire ragazzi Sto veramente Per avere un orgasmo Molto Facciamo così Ehm Non ho più Spazio Nell'inventario Quindi Io butto questa E mi faccio Il piccone in ferro Con i pezzi Che ho trovato adesso Per prendermi questa Ok Adesso ci vendiamo Tutti i materiali Micchia ragazzi Assurdo 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 Veramente Sono stato Sono strafelice Di questa Di questa trovata Dello spawner Veramente Cioè E' bello che prima Di scendere ho detto Beh Magari trovo uno spawner Tanto non ne trovo da anni E ho trovato uno spawner Bravo Dico Ok Minchia Ehm Bello raga Mi è piaciuta Mi è piaciuta davvero tanto Questa esperienza Cioè Ma che minchia Stai dicendo Non lo so Però è stata una cosa divertente Perché c'è stata un'adrenalina Assurda Ehm Cos'è questo Ma che è smeraldo Ho trovato lo smeraldo Cioè Che è più raro Del diamante Forse Stiamo a scherzare Veramente Io sto per venire Oh Veramente Oh Sto per venire Un orgasmo Ragazzi Cioè Ste cose di legno Mi cacare una minchia Onestamente Le sto buttando La botola Vaffanculo Prendiamo tutte ste cose Ragazzi Mamma mia Oddio Cioè Cioè Che cazzo di episodio Vi ha portato oggi il Jampitech Se non ci sono almeno 4000 like Io bestemmio Quei sto dio Cioè perché qua Io ci sto perdendo 7 anni di vita Tutti dicono Minecraft non è un cazzo Però Non c'è Avete rotto l'amico Cioè Minecraft Si che Porco Dove Ok Allora qui c'era il nostro amico Adesso Continuiamo ad avanzare Perché magari Boh Che cazzo ne so C'è un altro spawner Che minchia ne so Bop Smeraldo Ancora smeraldo Picciotti Ancora Tranquilli Che cazzo è Comore d'acqua Cioè raga Oh allora Ma dovete dire Lo smeraldo È Più raro Del Del cazzo Di diamante No me lo dovete dire Cioè quindi Aspetto nei commenti Un commento Che voi mi dite Sta roba Si è più raro No Stai dicendo Delle cazzate immonde E va bene In questo caso Intanto c'è un teschio Lì messo Che è proprio tranquillo Tranzollo Proprio zio Si sta facendo i cazzi suoi Poverino Adesso Va a fare in culo Chiudiamo sta acqua Che qui magari Si può scoprire tanta roba Ancora smeraldo Veramente Io sto Io sto per morire ragazzi C'è un sacco di roba Qua dentro Un sacco Un sacco di roba Cioè ma Ma porco due E questa è stata una Pure l'ossidiana Vabbè raga Abbiamo vinto Cioè veramente Questa è la fine Di tutto Facciamo così Chiudiamo Sto pertugio Tipo adesso Scoppio Mi brucio E io bestemmi Ho detto che ho chiuso l'acqua Sono stato un coglione Devo fare una cazzo di cosa Intanto devo prendere questo Terra Buono Terra qua sotto Chi minceglia la porta Se lo sa solo Ok 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 Adesso diventa buia Schifo Mettiamo la torcia Dai asciugati Lava di merda Non ti asciughi Ti faccio asciugare io Ok Smeraldo Continuo a trovare Smeraldo Ma che cazzo Si può costruire Con lo smeraldo Che io non ne ho La più pallida idea Raga Non ne ho Idea assolutissimamente Cosa si possa costruire Con lo smeraldo Intanto che cazzo Ho trovato Qua oro Lapislazzuli Ma dove mince Sono finito Nel mondo fatato Impressionante Veramente Impressionante Ragazzi Veramente Impressionante Io veramente Adesso me ne salgo a casa Perché ho paura di scoppiare No forse non ho slot nell'inventario Porco due Non ho slot Non ho spazio Sti però Ha polvere da sparo Vai a fare in cuo Ok Ahia Un creeper Si è spawnato Là sotto Proprio Nella strada Del mio ritorno Oh 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 Che cazzo è Che mi buggo Porca madosca Cioè Che ci sono un sacco Che ci sono un sacco di materiali E li vero a prendere Per carità Però Ce ne dobbiamo Andare Perché oggi Il bottino è stato Assurdo Veramente Sono stracontento Del mio bottino Stra Felicissimo Cazzo Quindi ragazzi Ce ne torniamo a casa Veramente è stato un episodio Assurdo Cioè Io non penso di aver fatto mai Un episodio così bello Di tutte le serie che abbia mai fatto Cioè Ho trovato Un sacco di roba Tra cui lo sberaldo Che non so nemmeno Che cazzo sia Non so Come è possibile Cioè Che se lo sbaglio È più raro del diamante Poi Pagali sto dicendo anche una cazzata Ma se no Io non ricordo male È così Però ogni volta Mi scasso una minchia Quindi facciamo così Ok Ragazzi Siamo ritornati in casa Guardate Ho trovato 26 pezzi di ferro 12 di oro 18 di lapislazzuli E 3 di smeraldo Ehm Davvero Sono stracontento Di questo Di questo mio risultato Quindi Qua sempre Lasciate un commento Qua sotto al video Per dirmi Di cosa ne pensate Nella serie Dell'episodio di tutto Consigliatemi Cosa posso fare Nel prossimo episodio E dite appunto Se lo smeraldo È più raro del diamante Perché se no Ho avuto un culo della madonna Ciao ciao